buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di gps di aggiornamento delle gps 2024 2026 le ultime notizie sulla presentazione della domanda oggi c'è stato un incontro politico al ministero dell'istruzione del merito con i sindacati proprio per parlare di aggiornamento gps 2024 2026 e vi diciamo subito che non ci sono ancora certezze assolute però qualche spiraglio e qualche novità possiamo darla domanda numero uno quando sarà possibile presentare distanza di aggiornamento trasferimento e nuovo inserimento delle gradatori provinciali per le supplenze 2024 2026 diciamo che è stato un travaglio lungo e contorto e non sappiamo ancora con assoluta certezza il periodo di presentazione delle istanze di aggiornamento delle gps 24 26 se non ci sarà bisogno come sembra di altri passaggi al csp e dunque l'ultima bozza sarà quella valida le domande si potranno presentare da lunedì 20 di maggio a lunedì 10 giugno e dunque l'ordinanza dovrebbe arrivare alla fine di questa settimana si presume già domani 16 maggio o il 17 maggio passiamo alla domanda numero 2 chi ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero o ha il titolo di sostegno preso in un paese della comunità europea ma i titoli non hanno ancora ottenuto il riconoscimento richiesto sarà graduato a pettine oppure in coda la richiesta di alcuni sindacati a confinare in coda alla prima fascia gli abilitati all'estero senza riconoscimento è stata fatta anche oggi nell'incontro che c'è stato al ministero ma pare che il ministero dell'istruzione del merito tiri dritto per la sua strada e inserisca pettine in prima fascia gli aspiranti abilitati e specializzati con titoli esteri anche se non ancora riconosciuti domanda numero 3 gli abilitati attraverso i 30 cfu percorsi abilitanti universitari potranno tranquillamente entrare in prima fascia anche senza aver conseguito l'abilitazione su questo fronte sembrerebbe esserci una novità gli abilitati con 30 cfu potranno entrare definitivamente in fascia prima fascia gps solo e solo se il titolo viene conseguito entro e non oltre il 30 di giugno 2024 altrimenti restano in seconda fascia per cui si potranno presentare l'istanza anche con riserva ma questa andrà sciolta se il titolo viene conseguito entro il 30 di giugno 2024 fronte di data fondamentale per non diciamo rimanere in prima fascia senza abilitazione attendendo come sembrava la conclusione dell'anno accademica e dunque il conseguimento del titolo ad anno accademico 23 24 in corso ma anche nelle sessioni invernali che si avranno da novembre dicembre e forse anche febbraio per cui 30 giugno 2024 ultima data ecco le risposte a queste importantissime domande speriamo che il nostro pubblico abbia utilità a seguire questo video e a sentire queste risposte e vi informeremo ancora in modo particolare e preciso sull'ufficialità della data di presentazione domande che sembrerebbe oscillare dal 20 di maggio al 10 di giugno arrivederci e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti